Buonasera e ben ritornati ad un nuovo appuntamento con Sapere in Salute. Qui con noi in studio abbiamo la nostra esperta, la dottoressa Annalisa Subacchi. Buonasera e ben ritornata qui con noi. Grazie, buonasera. Allora l'argomento che abbiamo scelto per questa serata ovviamente è collegato all'alimentazione ma soprattutto ad un periodo dell'anno che causa diversi problemi ad una percentuale che sembrerebbe poca, nel senso è circa il 2-2,5% della popolazione ma in realtà potrebbe essere molto più ampio. Perché parliamo di allergie alimentari e nel periodo primaverile tutto esplode perché poi capiremo è un po' tutto collegato anche alle allergie diciamo con le respiratorie perché ci sono le feriture. Certo, sì un bellissimo periodo per la maggior parte delle persone, un bruttissimo periodo per chi è allergico proprio perché nel periodo della primavera tutto rinasce, tutto fiorisce, quindi abbiamo i pollini, abbiamo le graminacee, la parietaria, l'ambrosia, la betulla, però c'è un gruppo di persone, un 2%, addirittura in certi casi anche un 7%, se pensiamo anche ai bambini, i bambini allergici sono veramente in aumento, che stanno malissimo in questo periodo, in questo periodo che può andare da marzo fino ad agosto, in certi casi anche settembre, ottobre. Teniamo conto che non esiste più la primavera di una volta, quindi non abbiamo più un periodo ristretto di impollinazione ma l'impollinazione può avvenire anche tutto l'anno. Ecco, certamente si diceva che una volta che era terminato maggio, bene o male, le persone potevano cominciare a stare meglio, soprattutto quando scompaiono i pollini che volano e che danno particolarmente fastidio a queste problematiche, ma è una percentuale piuttosto che come lei sta dicendo è in aumento. È in aumento a causa dell'inquinamento ma anche a causa della troppa pulizia, siamo troppo puliti, abbiamo abbassato le nostre difese immunitarie proprio con la disinfestazione, con i detergenti, quindi anche i nostri batteri amici che sono a livello della nostra cute, della nostra pelle, vengono meno. E quindi questa popolazione può essere colpita proprio dall'insorgenza di queste allergie alimentari, allergie respiratorie nell'ordine del 2-2,5% ma addirittura fino al 7,5%. E sarà sempre di più in aumento, proprio perché abbiamo cambiato la nostra tipologia di disinfestazione, quindi la nostra tipologia di vivere nell'ambiente circostante. La troppa pulizia, spesso si dice, è stata la causa proprio dell'insorgenza di tutte queste allergie respiratorie e quindi allergie alimentari. Ecco, c'è anche da dire che il dato che lei ha portato qui da noi in studio è piuttosto alarmante per quanto riguarda i bambini al di sotto dei due anni, perché qui la soglia si alza al 7% e ormai è diventato un sapere comune che all'inizio si hanno le cosiddette dermatiti allergiche nei bambini al di sotto dei due anni, che poi scompaiono di improvviso, ma in realtà questi bambini da adulti o comunque da ragazzi svilupperanno delle patologie respiratorie allergiche. Asma? Certo, assolutamente. Diciamo che sotto i due anni il bambino diventa allergico, quindi ha queste dermatiti, questi rossori, queste psoriasi, vengono chiamate dermatite atopiche, non si sa dare una completa causa, che scompaiono a un certo punto più o meno sugli 8 anni di vita. Con l'età dello sviluppo, 14-15 anni, cominciano a insorgere invece tutte quelle allergie respiratorie che non si erano verificate nella prima parte della vita. Mi capita spesso anche di avere adulti dai 30 ai 40 anni che da piccolini erano allergici con queste dermatiti, hanno avuto un periodo della vita, non hanno accusato problematiche, e con i 30 ai 40 anni cominciano a avere queste problematiche di allergie, allergie legate proprio all'asma, alla respirazione, e diventa un dramma soprattutto nel periodo dell'impollinazione, tenendo conto che l'impollinazione può avvenire in qualsiasi periodo dell'anno. Basti pensare che certi inverni caldi ci sono state delle impollinazioni di graminacee, della graminia nei campi, quindi basta un annuntamento della temperatura che il fiore comincia a impollinare e comincia a produrre questi pollini. Ecco, io purtroppo faccio parte di questo 2,5% di popolazione che è allergica, infatti io sono asmatica allergica, e devo dire che mi rendo conto sulla mia pelle che se durante l'anno posso sgarrare e magari mangiare qualche farina in più, o il glutine, nel periodo primaverile, se questo sgarro avviene, con le allergie respiratorie si aggrava ulteriormente il problema. Quindi parte tutto dall'alimentazione. Assolutamente. Cioè noi riusciamo anche a placare forse i nostri sintomi respiratori o della dermatite se mi alimento in modo corretto, in modo consapevole. Certo, assolutamente. Non bisogna non mangiare più niente perché durante il periodo dell'impollinazione chi è il colpevole sono soprattutto la frutta e la verdura e le farine. Però se conosco meglio le mie allergie riesco ad avere un'alimentazione corretta. Le allergie sono stagionali, quindi per esempio abbiamo la betulla che inizia a impollinare a gennaio e termina con aprile. Quindi se io sono allergico alla betulla dovrò seguire una determinata alimentazione. Ecco, qui stiamo già entrando nell'argomento della cross-reattività, ovvero che se io mangio un determinato alimento di quella famiglia dovrò eliminare tutto, per almeno il periodo dell'impollinazione. Però io direi di partire dalla cosa fondamentale, ovvero cerchiamo di fare la differenza tra allergia e intolleranza alimentare. Ovviamente anche chi è intollerante alimentare in questo periodo dovrà stare più attento. Certo, assolutamente. L'allergia è una reazione scatenante immediata all'interno dell'organismo. Quindi sono allergico alla mela, alla pera, alla pesca, devo stare attento a non mangiare questi alimenti perché possono crearmi una reazione. Una reazione che può essere un'infiammazione del palato, può essere del gonfiore, può essere un'asma, può essere una dermatite. Quindi è una reazione immediata. Sono allergica al glutine, alle farine, mangio glutine e comincio a star male immediatamente, nel giro di pochi minuti. L'intolleranza invece è una reazione molto più lunga, dovuta a un accumulo di un alimento. Quindi io posso essere intollerante, per esempio, al latte, riesco a mangiare una mezza mozzarella, non mi fa reazione, una mozzarella intera invece mi fa correre in bagno. Quindi l'intolleranza è una cosa più subdola, è un'intossicazione che può avvenire con un periodo di incubazione molto più lungo, che può durare da un mese, due mesi, un anno o addirittura 5-6 anni, quindi molto più lunga. Dipende dalla quantità dell'alimento che io introduco prima di avere la reazione. Quindi se vogliamo vedere è molto più pericolosa l'allergia, perché l'allergia è proprio causa-effetto, è scatenante. Mangio un alimento, sto malissimo e quindi ho la reazione. Ecco, ma ci sono tante persone, per esempio, che mangiano un alimento, non so, il fenocchio, il pomodoro. La prima reazione che hanno, adesso ne ho detto i due, il pomodoro, forse è quello più pericoloso, perché contiene anche il nickel. Però magari hanno la cosiddetta reazione del pizzicorio in bocca, la lingua che si gonfia, le labbra indolenzite. O magari ci si gratta qua, no? Esatto. Cominciano a formarsi delle chiazze rosse sulle braccia, che poi magari nell'arco di una, due o tre ore scompaiono. Certo. Oppure si ha un dolore... Addominale, un gonfiore, per esempio. Ma questa è allergia o è intolleranza? Questa potrebbe essere una cross-reattività, quindi un'intolleranza, nel senso che io non sono allergica a quel determinato alimento, perché la reazione sarebbe stata molto più forte e immediata. Questa è una cross-reazione, per esempio sono allergico alla betulla e quindi mangiando finocchio o altri alimenti posso avere questa reazione. Quindi si parla di una cross-reazione, quindi non è proprio l'alimento che mi causa la problematica, perché magari consumato in un periodo dell'anno dove non impollina, per esempio ho detto la betulla e poi vediamo perché, magari mangiato d'inverno non mi crea questa problematica. Mentre se io lo consumo da gennaio fino a marzo, quando impollina anche la betulla, la reazione è immediata, è una cross-reazione. Quindi è meno grave rispetto all'intolleranza, all'allergia vera e propria, insomma, al finocchio o a qualsiasi altro alimento. Ecco, ma se uno è asmatico e mangia questi alimenti che come primo sintomo hanno il pizzicorio, la maccherosa... È meglio evitarli, è meglio evitarli. Si potrebbe avere un aggravamento della problematica respiratoria? Certo, assolutamente, quindi potrebbe incrementare, quindi creare problematiche maggiori proprio al suo asma, perché la problematica maggiore in questa persona è l'asma, non vado a utilizzare delle variabili... L'asma e la rinite. Asma e rinite, certo. Perché sono tantissime persone che durante questo periodo hanno il nasone rosso... Certo, certo. ...che li cola, sempre con i fazzolettini, gli occhi che lacrimano. Esatto, esatto. Quindi i fastidi sono notevoli. Esatto, vengono intensificati, oppure lo starnutire dopo mangiato. Quanti mi dicono, io tutte le volte che finisco un pasto starnutisco. Non è una cosa normale, vuol dire che c'è qualcosa che mi ha creato proprio un fastidio, un'allergia. Quindi il mio corpo mi dà quella sintomo, proprio per farmi capire che c'è qualcosa in quello che sto utilizzando come alimentazione che non gli va bene. Solitamente dico, ciò che pizzica in bocca, pizzicherà a livello intestinale. Quindi se io mangio un alimento e comincio a pizzicarmi il palato, è pericolosissimo, perché potrebbe crearmi una reazione poi a livello intestinale. E dai, 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 potrebbe creare delle conseguenze a livello gastrico intestinali non indifferenti, come le ulcere per esempio, come le morroidi anche. Quindi potrebbe creare dei sanguinamenti a livello della mucosa intestinale. Quindi se vi accorgete che un alimento vi pizzica in bocca, non mangiatelo o state attenti. Ecco, quali sono i sintomi che andrebbero tenuti sotto controllo e che potrebbero essere quindi collegati e aggravati in questo periodo dell'anno? Beh, come abbiamo già detto, l'arinite, il gonfiore addominale, il continuare a starnutire, ma perché no? Anche un sovrappeso o una diminuzione di peso, la formazione di cellulite, di ritenzione di liquidi. In certi casi mi è capitato anche depressione, ansia, insonnia, fatica di riposarsi correttamente, perché è un'intossicazione. Quindi io vado a intossicare il mio sistema nervoso. Oppure la tosse persistente, che non è dovuta a un virus o a una problematica della stagione, ma è quella tosse strana che nessuno riesce a capire da cosa si è provocata. Sizzosa, quella che non è... Esatto, esatto. Ultimamente mi è capitata una signora, afona, è venuta da me afona, nel giro di due settimane l'ho rivista, parlava. Riusciva a parlare correttamente. Senza l'utilizzo di cortisone, di antifiammatori, di antistaminici, perché poi è qui che dobbiamo lavorare, ovvero cercare di limitare quando è possibile l'utilizzo di farmaci, che fanno bene da una parte, ma fanno male dall'altra. Il cortisone salva la vita, però sappiamo tutti gli effetti collaterali che può... Lo possiamo usare in caso di necessità, però se riusciamo a regolare giusto un'alimentazione e riusciamo a risolvere gran parte del nostro problema, magari teniamo il cortisone e l'antistaminico proprio in borsetta in caso di necessità, insomma. Questa signora, infatti, dopo aver provato tutte le cure convenzionali, si è scoperta essere allergica a delle graminacee e anche al nickel, togliendo gli alimenti incriminati, ha riacquistato nel giro di due settimane la voce. Quando esagerava e quindi voleva provare a rimettere dentro quegli alimenti che le creavano fastidio, perdeva ancora la voce. Quindi la voce, diciamo, che è un'indicazione della tossicità del suo corpo, di quanto è intossicato il suo corpo da parte di questi alimenti. Ecco, ci sarebbe un'altra slide che evidenza, diciamo, questo legame tra i sintomi che ci sono, la sintomatologia che c'è tra allergia e l'intolleranza alimentare, perché a volte può capitare che poi il sintomo sia lo stesso. Certo, assolutamente. Le allergie, tipico dell'allergia abbiamo l'orticaria, la dermatite, mancherebbe anche il discorso di asma. Il tipico delle intolleranze, difficoltà digestive, dolore addominali, sensazione di gonfiore. Però abbiamo quei sintomi come la diarrea, la stipsi, la tosse, l'irritazione, che sono comuni sia a un discorso di allergie che a un discorso di intolleranze alimentari. Quindi spesso, ecco perché si fa confusione, perché se ho una tosse persistente, magari penso di essere allergica a qualcosa, invece è semplicemente un'intolleranza. Quindi bisogna vagliare proprio i due campi ed escludere sia uno che l'altro. Quindi guardare insieme quali sono le problematiche relative a un alimento, a un'intolleranza oppure a un'allergia e capire in che modo procedere. Ecco, dottoressa, lei ha parlato di asma, quindi segue delle persone asmatiche che hanno dei grossi problemi, perché sappiamo tutti che l'asma è cronico-degenerativa. Assolutamente. Quindi con il passare degli anni la situazione si aggrava. Certo. Lei riesce quindi attraverso una dieta controllata, personalizzata, perché ognuno non può pensare di seguire quelle famose diete che si possono trovare in internet, o magari semplicemente il calendario che ci ha portato qui noi a dire, bene, adesso nel periodo primaverile tolgo questo, 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 altro. Rischio di andare in carenza nutrizionale, quindi è pericoloso anche quello. Certo, certo. Ha delle persone quindi che hanno avuto dei buoni riscontri. Ha parlato di questa signora che nell'arco di due settimane sole è stato risolutivo, assolutamente. Ha risolto il problema della voce. Certo, certo, di questa voce afona. Ho persone anche che sono asmatiche, che ovviamente girano con puff di cortisone, di antistaminico, perché quello in caso di necessità c'è sempre, però con una buona alimentazione, quindi andando a trovare la loro problematica allergica, eliminando determinati alimenti, soprattutto nel periodo dei pollini, loro riescono a tamponare questo problema. Quindi se il loro problema di asma era, per esempio, di sei mesi l'anno, riescono a tirarlo per due mesi l'anno, quindi riescono ad abbassare il tempo proprio di problematica asmatica. Ovviamente l'asma, l'allergia non si può risolvere, perché è una problematica che c'è fin dalla nascita, magari scompare per un certo periodo e poi ritorna. Però si può mitigare, quindi si possono aiutare le persone ad abbassare la sintomatologia e stare bene, quindi riuscire ad avere una vetta tranquilla, quindi riuscire ad uscire nel periodo clou dell'impollinazione senza avere quelle problematiche che avevano magari prima, e quindi senza avere delle problematiche fisiche e di asma, quindi sappiamo cosa può comportare l'asma per certe persone che si chiudono in casa e non escono più durante il periodo dell'impollinazione, non hanno più una vita sociale, quindi riescono a mandare fuori a mangiare tranquillamente e riescono ad abbassare proprio le loro problematiche. Mai a risolverle perché si tratta proprio di allergie. Quindi abbassare anche l'uso dei farmaci? E abbassare l'uso dei farmaci. Per esempio il problema della primavera comincia anche da marzo, cominciamo con belle giornate, quindi i pollini cominciano ad essere una problematica. La terapia convenzionale prevede l'utilizzo di farmaci già in questo periodo. Queste persone che bilanciano correttamente l'alimentazione riescono a abbassare l'uso dei farmaci in questo periodo e portarli magari ad agosto, quando abbiamo il clou dell'impollinazione. Però riusciamo ad abbassare il mese proprio di utilizzo di questi farmaci, che fanno bene da una parte, però fanno male dall'altra. Gonfiano, aumentano la ritenzione, aumentano il senso di fame, l'inibiscono il senso di sazietà e quindi mi fanno aumentare anche di peso. Ci intossicano comunque, perché poi il nostro sistema ormonale, la nostra matrice extracellulare che deve spellere queste sostanze, non ce la fa, perché se poi è duratura nel tempo, un conto è quella determinata situazione che ti salva nel momento in cui hai proprio bisogno. Ma non deve essere perpetrata tutti i giorni. Assolutamente, assolutamente. Io me ne rendo conto, se sono brava riesco anch'io a lasciarlo nel portafoglio, la pastiglietta. Benissimo. Quindi, allora, andiamo avanti con le nostre slide che abbiamo preparato per questo argomento, perché abbiamo visto prima chi colpisce nella popolazione. Adesso la Regia ci sta mandando le ipotesi che spiegano l'ammento della prevalenza delle allergie. Come abbiamo detto all'inizio, sono diverse le cause. Certo, certo. Io avevo parlato all'inizio proprio la troppa pulizia, quindi il sistema di vita occidentale, l'ho chiamato, è il nostro sistema che prevede una super disinfestazione, una molta pulizia. Quindi io vado a eliminare la mia difesa naturale, che è la mia cute. Sono i miei batteri amici che ci sono sopra la mia pelle. Quindi la troppa pulizia può portare proprio a un abbassamento delle mie difese naturali e quindi un impoverimento della mia flora batterica e dei miei batteri amici e quindi sono più soggetta ad avere questo tipo di allergie. Ecco perché stanno aumentando nel nostro periodo e magari 20-30 anni fa erano ancora poche, erano proprio delle mosche bianche. Ma quali sono gli alimenti o gli allergeni che creano più problematiche? Non so, ci può essere il latte, i crostacei, abbiamo parlato, non so, di alcune verdure in particolare? Praticamente qualsiasi classe può essere toccata. Si sente spesso parlare l'allergia ai crostacei, ai molluschi, si sente parlare spesso all'allergia al latte, l'allergia anche alla frutta secca, ma sicuramente per le allergie respiratorie i diretti interessati sono frutta e verdura, quindi tutti gli alimenti che abbiamo in tavola durante il periodo dell'impollinazione. Quindi va bene la frutta e la verdura, però per un allergico bisogna spostarci su determinati tipi di frutta e di verdura. Comunque anche da questa slide gli allergeni possono essere tutti. Mi capita spesso gente che arriva a 70-80 anni a essere allergica al pesce, avere proprio delle reazioni avverse nei confronti del pesce, forse per l'inquinamento dei mari, forse per l'abbassamento proprio delle difese immunitarie, oppure ho persone che sono allergiche al latte, come dicevamo prima, questo è più tipico come allergia nei bambini, quindi nei bambini sotto gli 8 anni che cominciano a essere allergici alle proteine del latte, poi questa allergia piano piano scompare. Ma ultimamente sto trovando anche pochi adulti che sono allergici alle proteine del latte, il che diventa molto problematico perché sappiamo che nelle modalità di conservazione e di produzione degli alimenti le proteine del latte sono ubiquitarie, quindi non è semplicemente eliminare il latte, ma è tutto un corollario che può essere costituito con questo. Purtroppo vedo che lei mette anche gli additivi alimentari, Purtroppo uno magari è convinto di mangiare bene, sano, dando prevalenza nella propria alimentazione alla frutta e alla verdura, quando molto spesso vengono trattate, colorate, oppure vengono iniettate con dei conservanti per poterle mantenere belle. Esatto, esatto, molto spesso capita persone non allergiche al determinato alimento, ma allergiche ai conservanti, che forse è peggio, perché allergico a un alimento lo elimino, allergico ai conservanti devo stare attenta, devo imparare a leggere le etichette e devo guardare effettivamente quali conservanti mi danno problemi e quindi cercare di evitarli. Un conservante molto frequente è l'amido modificato di mais, che è glutine, quindi molte persone allergiche al glutine sono allergiche anche a questo conservante. Oppure un altro... Che poi è una dicitura diciamo che inganna, forse perché amido di mais uno potrebbe pensare che è il mais. Certo, invece no, l'amido modificato del mais è un sinonimo di glutine, quindi persone allergiche al glutine sono allergiche anche a questo addensante, a questo additivo, come per esempio persone intolleranti al lattosio che hanno problemi con la dicitura aromi naturali o carmello, che sono sinonimi di lattosio. Quindi ecco perché ho messo additivi alimentari, perché sono quegli allergeni nascosti che possono crearmi delle problematiche e che sono un gran problema per gli allergici. Ecco, quindi in questo periodo dell'anno, se io magari anche negli altri mesi dovessi mangiare uno di questi alimenti, non avere grosse problematiche o semplicemente uno di quei sintomi che spesso vengono sottovalutati, magari si dice ma sì, perché magari ho mangiato tanto, in questo periodo ci può essere l'aggravamento? Certo, nel periodo dell'impollinazione ci può essere, però quello che dico sempre è l'alimento non va eliminato o bandito, perché più elimino un alimento, più non lo riesco più a tollerare. Quindi l'obiettivo è proprio quello, te lo bandisco per almeno un mese quando c'è l'impollinazione, però durante l'anno, almeno una volta alla settimana, quell'alimento lo reinserisci. Quindi ritorniamo al finocchio di prima, mi dà fastidio durante il periodo dell'impollinazione, magari della betulla, però al finocchio durante l'anno io devo consumarlo, perché più lo elimino dalla mia tavola, più io non riesco più a tollerarlo. E quindi diventa proprio una problematica. Quindi va bene bandito, però soltanto durante il periodo dell'impollinazione. Ecco, passiamo magari in rassegna, la slide che lei ha preparato per effetto sulla cross e reattività. Per esempio, vabbè, gennaio, febbraio, marzo, aprile, quali sono gli alimenti da eliminare? Iniziamo dalla betulla. La betulla crossa con finocchio, sedano, carota. Abbiamo anche la noce, la nocciola. Con la betulla crossano anche l'albicocca, la pesca, la mela, la pera. Praticamente l'allergia alla betulla ricopre tutti quegli alimenti che cominciano a impollinare in questo periodo. Ma quindi se io sono allergica alla famiglia delle betulle, anche tutti gli altri alimenti che fanno parte, non so, delle corilacee o delle... Dipende dalla mia allergia, perché se io sono solo allergica alla betulla, dovrò eliminare solo questi alimenti in quel determinato periodo. Però ho persone che sono allergiche alla betulla, quindi da gennaio ad aprile devono eliminare questi alimenti detti. Il problema è che poi diventano, sono allergici alle composite e le composite vanno da maggio a novembre. Quindi le composite che cos'è? L'insalata, la camomilla, il carciofo. Quindi dovranno stare attenti a questi determinati alimenti da eliminare in un secondo periodo. Però possono ritornare, rimettere nella loro alimentazione gli alimenti della betulla, perché a maggio la betulla non è più in fiore, non impollina più. Quindi il mio finocchio, che non potevo mangiare fino a maggio, quando termina l'impollinazione della betulla, posso rimetterlo nella mia alimentazione senza problemi. Quello che dico sempre è imparate a conoscere le piante a cui siete allergici. Perché se io sono allergica alla betulla, quest'anno è stato un anno freddo, la betulla non è ancora fiorita, quindi non posso cominciare a eliminare già gli alimenti. Li inizierò nel momento in cui impollina la betulla. Però vedo la pianta della betulla, vedo il suo polline, vedo che sta impollinando e quindi comincio a eliminare i miei alimenti. Spesso mi capita proprio di vedere gli allergici e chiedere sapete com'è fatta la betulla, sapete com'è fatta la parietaria? No, non la conosco. Però un allergico dovrebbe conoscere le proprie piante, perché dovrebbe essere proprio lui capace di vedere, di capire quando sta impollinando e quindi di togliere per quel periodo quei determinati alimenti. È l'unico modo per star bene. Quindi, lei parla di cross e reattività. Perché menziona anche il gatto maiale? Gatto maiale perché possono essere molto similari. Si è visto proprio... Ah, queste sono le piante che lei diceva che bisognerebbe riconoscere... Esatto. Le graminacee le conosciamo praticamente subito tutte. È la graminia. Ultimamente viene utilizzata anche come erba ornamentale nelle nostre aiuole. Quindi chi è allergico alle graminacee deve stare attento perché tutte le aiuole che abbiamo sono piene di graminacee. Le orticacee come l'ortica e poi abbiamo le composite, qui ho rappresentato la specie più significativa, che sono le margherite praticamente, che è della stessa famiglia delle lattughe. Maiale e gatto, sì, si parla anche di cross e reattività tra animali che non c'entrano niente. Quindi maiale e gatto si è visto che chi è allergico al pelo del gatto, ovviamente noi non mangiamo il gatto, dovrà stare attento al maiale perché è un alimento che viene introdotto nella nostra alimentazione. Oppure, per esempio, se io sono allergico alle piume, alle penne del pollo, oppure agli acari della polvere, devo stare attento alle uova oppure a determinati alimenti come molluschi e crostacei. Gli acari della polvere, se ci pensate, sono molto simili ai crostacei. L'acaro della polvere è molto simile al gambarettino. Quindi spesso mi capita persone allergiche agli acari che mangiano frutti di mare, acari, e continuano a accusare questi mal di pancia. saranno malissimo. Esatto, esatto. Oppure polline alimenti vegetali che è quello che abbiamo detto adesso, quindi con la betulla, determinati alimenti, determinati vegetali che vengono riconosciuti proprio come betullacee. Pur non facendo parte della famiglia delle betullacee, però il mio corpo, ogni volta che introduco il finocchio, lui pensa che io stia respirando betulla e quindi mi dà questa cross-reazione, questa reattività. Ecco, le persone che lei segue, i pazienti, ovviamente li farà su planning alimentare e li aiuterà nei vari periodi dell'anno a superare queste problematiche. Ci sono però dei test a cui bisogna sottoporsi. Certo, in primis io devo capire a che cosa sono allergico. Esistono prevalentemente tre test. Qualche allergico li avrà sicuramente fatti. Il RAST test che è il test del braccio, dove vengono inseriti, vengono fatti dei puntini relativi ai diversi alimenti e diversi pollini e si va a inserire un liquido di contrasto in modo tale da vedere se c'è una reazione. Se viene creato un ponfo vuol dire che io sono allergico a quell'allergene e a seconda della grandezza del ponfo viene data un grado di allergia primo, secondo, terzo, quarto o quinto. Oppure abbiamo il patch test che è più tipico per i metalli pesanti, per il famoso nickel. Quindi sono dei cerotti imbevuti di diverse sostanze posizionati sulla schiena e per 72 ore, 48 o 72 ore, si tiene questo cerottone sulla schiena. Dopodiché viene tolto e si vanno a vedere proprio i vari ponfi che si sono formati. Se sono allergico, per esempio, al nickel, viene formato proprio il grande ponfo e anche qui si dà un grado, dal primo al quarto grado. Oppure il test meno invasivo che è l'Elysa test. L'Elysa test è semplicemente un prelievo di sangue, viene analizzato il sangue in quel laboratorio e viene vista proprio la reazione, la concentrazione si dice delle IgE, cioè la quantità delle monoglobuline E che sono responsabili proprio dell'insorgenza delle allergie. Solitamente vengono fatte le IgE totali, si dice, per vedere se siamo allergici, se superano una determinata soglia, allora si procede, si va a chiedere a quali allergeni sono positiva, insomma, si va a vedere a quali allergeni sono positiva. Una volta che il risultato è arrivato di questo test, ci sarà la prosecuzione, ovvero lei stilerà un piano alimentare e si partirà con l'esclusione del tutto. Io parto con l'esclusione dell'alimento per tutto il periodo, per solo un mese. Di solito si parte con un mese, se partiamo proprio nel periodo dell'impollinazione dobbiamo escluderlo per tutto il periodo dell'impollinazione. Quindi il primo step è una disintossicazione, io di solito do un mese più che altro perché ho visto che già dopo due settimane i risultati cominciamo ad averli. Poi nel secondo step si rivaluta il paziente, si vede anche come sono i suoi rapporti di massa grassa, massa magra e di ritenzione di liquidi e si va a cominciare a reintrodurre qualche alimento. Mi capita spesso nel secondo step di persone che non vogliono assolutamente reintrodurre più nessun alimento perché stanno troppo bene. Esatto, il problema è che come dico spesso più eliminiamo un alimento più non lo tolleriamo più. Quindi dobbiamo cercare proprio di fare queste prove di reintroduzione. Finché arriviamo al terzo step dove c'è la reintroduzione totale. Spesso il terzo step viene fatto d'inverno quando non c'è la variabile respiratoria. Quindi per esempio la pasta col pomodoro se sono allergico alle graminacee posso consumarla d'inverno ma non durante il periodo dell'impollinazione. Poi qui ho scritto senza superare il proprio limite soglia come si fa a sapere il proprio limite soglia? Pizzica la bocca? Mi prude il palato? Faccio fatica a digerire? Ho la pancia gonfia? Quindi riesco a capire quanto posso spingermi per introdurre quel determinato alimento. Benissimo quindi abbiamo capito che le soluzioni a questo diciamo malessere questo sintomo per fino ad arrivare a queste patologie gravi ci sono e partono tutte dall'alimentazione dall'esclusione degli alimenti che provocano le allergie e visto che siamo in tantissimi a soffrire questa problematica io do un consiglio mettetevi a dieta fatevi seguire da una persona giusta come per esempio la dottoressa Subacchi che vi aiuterà a superare questi sintomi che purtroppo durano per diversi mesi esatto dai più fastidiosi ai leggeri ai leggeri ma anche le problematiche pesanti come l'asma o le varie patologie respiratorie allergiche esatto io dottoressa la ringrazio ringrazio anche i nostri telespettatori per averci seguito l'invito a porre delle domande se volessero contattare la nostra esperta la dottoressa Subacchi che è nutrizionista esperta in test in test per le intoleranze alimentari allergie e anche presidente dell'associazione Alia Conlus che è l'associazione per la lotta delle intoleranze alimentari e celiachia potete farlo utilizzando gli studi di Cremona in via Giuseppina 21 a Crema in via Castello 12 in Manervi o via Verdi 64 il cellulare è 366 4759 134 il sito internet è aliaconlus.org oppure la mail è annalisasubacchi chiocciolotmail.com e la trovate anche sul social Facebook lisa nutrizionista sul quale potete trovare anche testimonianze e domande e quant'altro e grazie a tutti